Muoversi in macchina è complicato. Una città a misura di pedoni non è un'utopia, ma una strada percorribile e realizzabile, come dimostra l'esperienza della città spagnola di Pontevedra, 80.000 abitanti, che ha eliminato del 90% il traffico da 15 anni a questa parte. Ed una città a misura di pedoni è una città dove anche i bambini sono protagonisti, non come cittadini futuri, ma come parte attiva della società nella quale vivono e si muovono, ed una città vivibile per i bambini è una città migliore per tutti. Questi e altri concetti, come la riscoperta di quel microcosmo che sono i quartieri, sono presenti nei libri del professor Tonucci, colui che lanciò per primo l'idea della città dei bambini. Presentati questi libri nei giorni scorsi nella sala ipogea della Memoteca a Fano. Non è un concetto utopistico, una città che parte pensando per primis ai pedoni. No, direi che è una città democratica. Perché i pedoni sono tutti, e solo pedoni lo siamo tutti. Poi alcuni di questi pedoni prendono la macchina, alcuni la bicicletta, alcuni mezzi pubblici. Però tutti siamo pedoni. E quindi partire dai pedoni vuol dire partire da tutti, che dovrebbe essere una delle condizioni della democrazia. Quando noi diciamo bambini, non lo diciamo perché vogliamo bene ai bambini, o per un fatto romantico e cose. Lo diciamo perché per essere sicuri di non dimenticare nessuno, dobbiamo prendere come misura il più piccolo. È solo quando la città sarà attenta e disponibile alle esigenze dei bambini che potrà dirsi finalmente democratica, e cioè la città di tutti. La città di Pontevedra, da 15 anni, sta lavorando su questa idea. Il sindaco mi ascoltò 15 anni fa, e 12 anni fa, quando tornai a Pontevedra, che è una città della Galizia spagnola, mi disse questa è la tua città, perché io ti ho ascoltato 12 anni fa, mi hai convinto e sono 12 anni che stiamo lavorando per questo. Le automobili sono in qualche modo scomparse, non che le hanno vendute, ma non le usano per andare in città, le usano per andare fuori. La città ha diminuito le emissioni di CO2, ha diminuito gli incidenti stradali, sono alcuni anni che non ci sono morti. Mi sembra una città che, appunto, partendo dall'obiettivo dei bambini, ha cominciato a pensare a un futuro che dovrà essere, secondo me, necessariamente un futuro senza auto. Il sindaco Seri ha tenuto per sé questa importante delega con la precisa volontà di rilanciare e di far ripartire questo progetto, che 25 anni fa misefano in evidenza a livello comunitario. Noi stiamo riprendendo quel progetto, gli stiamo dando valore, stiamo già sperimentando un progetto con un quartiere a misura di bambino, ma vogliamo essere anche concreti, quindi stiamo proseguendo in questa direzione. voglio ringraziare anche il professor Tonucci, che ovviamente con la sua presenza e con la sua ricerca ha portato Fano in giro anche per il mondo, nel vero senso della parola. Anche le iniziative ultime stanno riportando e dando il giusto spazio e valore a questo progetto che ha caratterizzato Fano.